Mobit, l'accordata che ha perso la gara per il trasporto pubblico locale in Toscana, presenterà domani il suo ricorso al TAR. Intanto però presenta anche un'istanza all'autorità nazionale anticorruzione, insomma da battaglia. Intanto i sindacati incontrano il vincitore della gara, Autoline Toscana. In buona sintesi io mi sono permesso di far presente al dottore Allegra, il quale è direttore personale, che le trattative difficilmente possano essere tradotte e riassunte a livello regionale perché poi ogni singola realtà ha le sue problematiche. Nel merito Firenze che è la città capoluogo, definiamo l'area metropolitana, fra Firenze, Prato e Pistoia interessiamo noi nel trasporto pubblico qualcosa come un milione e mezzo di cittadini. È evidente che quindi l'area metropolitana finirà per essere dominante, a che ho chiesto appunto che fosse almeno la trattativa suddivisa in tre gruppi. Nord inteso come Costa, quindi Pisa, Livorno, Massa, Lucca, Pistoia, Prato. Sud inteso come Arezzo, Siena, Grosseto, Piombino. E area metropolitana appunto Firenze, Prato, Pistoia. Dopodiché è evidente che nei prossimi incontri entriamo più dettagliatamente nel merito per vedere di recuperare sinergie, quindi andare incontro alle aspettative dei cittadini, i quali cittadini, non vedendo più questa confusione di oggi, fra K, Lazzi, Sita, Ataf, quindi quale biglietto compro o quale non compro, domani comprerà un solo biglietto che si chiamerà 1,20 euro e che non si chiama più né K, né Lazzi, né Ataf, si chiama 1,20 euro e vai dove vuoi. È evidente che il nostro compito è quello di tutelare nei limiti del possibile lavoratore, però io torno a ripetere, dove c'è un colosso evidentemente i lavoratori sono più tranquilli, dove c'è lo spezzatino c'è confusione e quindi è difficile tenere in considerazione le aspettative dei lavoratori.